Per riaprire l'incontro parte Ippoliti con il destro, la deviazione, miracolo qui di Ponzelli che mette in calcio ad angolo, ha salvato un gol qui l'estremo difensore dalla stessa Mattonella in cui prima ha creato problemi Ippoliti, ci riprova il numero 10, sfortunato qui, palo interno. Si rinnova il duello, Ippoliti contro Ponzelli, va Ippoliti con il destro, questa volta passa la sfera, ci ha provato più di una volta, è stato sfortunato in precedenza colpendo il palo, adesso non sbaglia il numero 10 e rimette in equilibrio la sfida, 1 a 1 la stella azzurra.